Il campionato italiano Miniatura 2018 sta andando alla grande, abbiamo avuto due giornate di sole e vento meravigliosi, i concorrenti hanno fatto sei regate ottime, per cui a conti fatti diciamo che questo campionato l'abbiamo messo in cascina. È il mio primo campionato come Presidente del Porto in Mare, sono entusiasta e devo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato per portare a termine questo campionato. Domani speriamo nell'ultima giornata che sia una giornata che concluda degnamente questo campionato e che incoroni il campione italiano Miniatura.